salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi vi porto sul canale lui uno smartwatch con caratteristiche molto molto cattive sì perché uno smartwatch ultra m3 ultra di cospite ragazzi un prodotto veramente veramente cattivo e soprattutto completo in tutte le sue caratteristiche hardware sì perché ragazzi questo dispositivo è in grado di fare veramente di tutto e di darci tantissime informazioni e tutto secondo me mantenendo una qualità davvero davvero buona in un rapporto di prezzo davvero notevole ma di tutte queste caratteristiche ne parleremo dopo adesso andiamo a guardare da vicino come si presenta lui quando vi arriva all'interno della confezione che come vedete vi arriva all'interno di questa piccola scatoletta bianca dove trovate subito m3 ultra ben protetto da una pellicola protettiva dopodiché sotto la base d'appoggio dell m3 ultra troviamo una scatoletta dove al suo interno troviamo un manuale di istruzioni veramente completo in lingua inglese la base di ricarica magnetica con presa usb da collegare a qualsiasi alimentatore per smartphone dopodiché abbiamo incluso in confezione anche la pellicola protettiva per lo schermo anche se questo m3 ultra di cospite ha un vetro in gorilla quindi un vetro davvero molto resistente per intenderci molto più resistente rispetto a quello che ha un apple watch serie 9 quindi un vetro davvero molto molto resistente già di suo però all'interno della confezione abbiamo anche una pellicola protettiva che potremmo andare ad applicare in più la cornice sporge in altezza rispetto al vetro abbiamo un leggero gradino e questo ci dà la possibilità anche di avere una protezione maggiore al vetro così che in tante situazioni toccherà prima la cornice in metallo rispetto al vetro sì perché l'orologio ragazzi è totalmente in metallo adesso ve lo faccio vedere da vicino ha tutta la cassa in metallo infatti è molto pesante anche le dimensioni sono molto importanti abbiamo quattro tasti ognuno con funzioni diverse poi qua sotto abbiamo i vari sensori sia per il battito cardiaco per la pressione sanguigna per l'ostigenazione del sangue per il sonno poi vedremo tutto dopo perché è veramente davvero molto molto completo al suo interno di questo comunque case molto importante come vedete abbiamo anche un gps sì perché ragazzi in questo orologio m3 ultra quindi un orologio per situazioni anche estreme abbiamo un gps ma non un gps normale abbiamo un gps dual band che prende i segnali l1 l5 ed è in grado di agganciare sei sistemi satellitari cosa vuol dire che lui può agganciare il sistema satellitare gps galileo glonas beidu qzs e navic cioè veramente ragazzi con questo è impossibile perdersi se siete persone che utilizzano lo smartwatch in situazioni estreme lui potrebbe essere davvero un vostro salvavita e in più ovviamente essendo un orologio con determinate caratteristiche è nato soprattutto anche per lo sport infatti al suo interno abbiamo già 170 modalità di sport c'è veramente una cosa pazzesca e poi una caratteristica veramente interessante è che lui si adatta davvero in maniera incredibile al nuoto sì perché lui essendo i p69k è in grado di andare fino a 50 metri di profondità quindi capite che tipo di orologio è questo non è un orologio normale ma un orologio veramente veramente strong perché ragazzi qua abbiamo qualcosa di resistente ma anche completo in ogni sua funzione riguardante la salute riguardante il posizionamento e poi ovviamente anche tutte le cose basi di uno smartwatch cioè ricevere notifiche ricevere sms possibilità di telefonare ovviamente collegandolo in modalità bluetooth allo smartphone come vedremo dopo però ci permette di fare veramente veramente di tutto e per quanto riguarda il nuoto come vi stavo dicendo supponiamo di andare in piscina e di fare delle vasche riconoscerà lo stile che stiamo facendo calcolerà le bracciate che stiamo facendo e calcolerà anche ovviamente il tempo calcolerà il battito cardiaco lungo tutto il tragitto che stiamo facendo riconoscerà ovviamente quante vasche facciamo perché capisce quando cambiamo il senso di marcia della vasca questo vi assicuro che è un prodotto veramente veramente pazzesco in più essendo un orologio appunto da utilizzare in tutte le situazioni in qualsiasi situazione noi volessimo utilizzarlo lui in questo display amoled da 1.96 pollici a una luminosità in questo momento luminosità è a metà non è al massimo a una luminosità di millenite e qualcuno mi dirà che cazzo sono millenite in it è l'unità di misura della luminosità quindi più un display sarà luminoso più potremo vederlo in condizioni di luce molto elevate quindi in piena estate quando c'è il sole forte quando facciamo fatica a vedere il display dello smartphone per intenderci lui riusciremo a vederlo sì perché se andremo ad impostare una luminosità massima lui arriverà a millenite quindi con la sua luminosità fortissima riuscirà a farci vedere il display anche in condizione di luce ambientale molto molto forte questa è una caratteristica da non sottovalutare e un'altra caratteristica sicuramente interessante per un orologio che ha determinate possibilità di utilizzo è la batteria ovviamente in base a come lo si usa in base a se si utilizza il gps in maniera costante in base a quanto teniamo acceso il display in base a tutto quello che andiamo ad utilizzare lui ha una durata molto variabile può variare dalle 30 alle 35 ore in condizioni di gps sempre attivo a 12 15 giorni in un utilizzo standard quindi l'utilizzo quotidiano che potremmo fare noi con uno smartwatch a quel punto potremmo arrivare fino a 12 15 giorni e poi ovviamente ci sono le fasi intermedie in base a le attività sportive che andiamo a fare quanto usiamo magari i sensori per quanto riguarda il battito cardiaco per quanto riguarda la respirazione per quanto riguarda l'ossigenazione del sangue per quanto riguarda la pressione sanguigna cioè in base a questo avremo una durata della batteria variabile al suo interno sempre per quanto riguarda l'utilizzo estremo è in grado di rilevare la pressione dell'ambiente in cui siamo quindi se siamo in alta montagna ci dice la pressione che abbiamo in quello determinato ambiente e situazione in più abbiamo una bussola incorporata oltre al gps cioè ragazzi veramente qualcosa di super completo per quanto riguarda la parte adventure per quanto riguarda l'utilizzo in situazioni e ambienti estremi per quanto riguarda la salute ragazzi abbiamo veramente un orologio super completo adesso andiamo a vederlo da vicino questo è il quadrante base tenendo premuto qualche secondo sul quadrante potremo scegliere dei quadranti alternativi ma poi potremmo vedete posso andare a scegliere questo o andare a scaricarli direttamente dall'applicazione ce n'è veramente tantissimi cioè una quantità infinita un numero che probabilmente non so neanche dirvi quanti perché sono veramente veramente tanti però anche qua ragazzi vedete quanti ne abbiamo già preimpostati quindi basta selezionarne uno e siamo già operativi dopodiché in base al quadrante avremo le funzioni attive o meno direttamente sul touch del quadrante tipo qua ho la bussola quindi vedete che se io clicco lì faccio partire la bussola poi in base al quadrante che andremo a scegliere potremo avere più o meno funzioni direttamente date dal touch del quadrante se vado a tirare giù la tendina superiore entro in un menu dove all'interno di questo menu posso andare attivare le funzioni principali dello smartwatch quindi attivare lo schermo con il polso vedete la campanella che attiva disattiva quello che è il suono delle notifiche che ci arrivano la luminosità che come vedete adesso è a metà ma lui se io ci clicco sopra posso andare a portarlo a mille nitte quindi mille nitte vuol dire che l'orologio ha una luminosità incredibile adesso ve la tengo a mille nitte così magari riuscite a vederlo meglio anche dalla telecamera dopodiché questo tasto ci dà la possibilità di collegarlo o meno allo smartphone per poter telefonare dall'orologio poi andando a cliccare qua potremmo andare a trovare il nostro telefono vedete avvia stop per la ricerca del nostro telefono dopodiché abbiamo la percentuale della batteria che in questo caso vedete al 68 per cento possiamo metterlo in modalità non disturbare possiamo attivare la torcia possiamo andare ad aggiungere o rimuovere nuove funzioni che vogliamo in questo menu rapido dopodiché una volta che abbiamo selezionato questo menu cliccando col tastino in alto a destra entriamo in un sottomenu in cui abbiamo tutte le impostazioni dell'orologio di cambiare l'ora del quadrante selezionare la lingua display sempre attivo display luminosità quindi potremmo selezionare anche il tempo che noi vogliamo stia acceso il display quando guardiamo l'ora se vogliamo che si attivi girando il polso se vogliamo che si attive facendo tap sullo schermo o altrimenti no c'è tutto quello che vogliamo riguardante lo schermo e la luminosità suoni e vibrazioni tema password data e ora non disturbare rilevamento degli sport che possiamo attivare disattivare perché lui attivando questa funzione riconoscerà lo sport che stiamo facendo ci invierà la notifica dicendoci stai andando in bici per esempio monitorizza la tua attività fisica stai nuotando monitorizza la tua attività fisica in base allo sport che stiamo facendo dopodiché abbiamo pulsante giù che significa possiamo impostare cosa vogliamo che faccia il pulsante qua sotto una volta che lo andiamo a premere con una di queste funzioni lui ci farà entrare subito in quella modalità in modalità super rapida cliccando il tasto poi in sistema abbiamo riavvia spegnere imposta e poi qua sotto abbiamo l'informazione del sistema operativo installato e del firmware installato allora questo è quello che abbiamo all'interno di questo menu cliccando invece solo col tasto destro in alto quando siamo sul quadrante dell'orologio abbiamo tutte le funzioni di utilizzo quindi non più le impostazioni ma proprio l'utilizzo vedete chiamata esercizio quotidiano ci darà tutte le informazioni riguardante l'attività fisica che abbiamo fatto cliccando qua ce lo darà in maniera dettagliata vedete molto in stile apple watch dopodiché tornando indietro abbiamo allenamento quindi qua possiamo selezionare lo sport che vogliamo attivare come vi ho detto ce n'è tantissimi vedete aggiungi allenamento possiamo selezionare trasporti invernali esercizi fitness giochi cioè possiamo aggiungere tutti gli sport che vogliamo come ho detto 170 opzioni predefinite ci sono già in questo orologio dopodiché abbiamo registrazione allenamenti e poi entriamo in quella che è la parte della nostra salute ovviamente lui non è un dottore quindi non è che quello che ci dirà sarà per forza quello che sono i dati reali però ci darà sicuramente delle indicazioni che potrebbero farci pensare ad un controllo magari più approfondito allora abbiamo la frequenza cardiaca abbiamo il sonno abbiamo la pressione arteriosa si lui in grado di misurare la nostra pressione arteriosa quindi minima e massima dopo la proviamo magari con la macchinetta per fare un confronto di come si comporta poi abbiamo l'ossigenazione del sangue ci misura lo stress l'emozione da quello che sono le funzioni di controllo della nostra salute passiamo a musica assistente vocale meteo bussola altimetro si perché abbiamo anche l'altimetro con la pressione corrente come vi ho detto lui in grado di misurare sia l'altezza di dove ci troviamo che la pressione che abbiamo in quel momento dell'ambiente vedete siamo a 348 metri di altezza qua sotto faremo la calibrazione va fatta ovviamente quando si è l'aperto non in casa come sono io in questo momento e bisogna stare all'aperto così che riceva tutti i segnali che gli diano una precisione in quello che lui va a rilevare dopodiché abbiamo esercizi di respirazione notifiche perché lui in grado di ricevere notifiche dal nostro smartphone quindi notifiche di qualsiasi applicazione noi abbiamo all'interno del nostro smartphone che sia whatsapp che sia un sms in base a quelle che noi autorizzeremo dal nostro smartphone dopodiché abbiamo cronometro sveglia timer calcolatrice possibilità di scattare foto direttamente utilizzando l'orologio sfruttando lo smartphone torcia trova telefono salute femminile per il ciclo delle donne e poi qua sotto abbiamo impostazioni che ci fa tornare a quello che era le impostazioni che abbiamo visto prima nella schermata precedente sono le stesse ok solo che ci si può arrivare sia da di qua che da di là allora questo è tutto quello che è in grado di fare direi che è davvero tanta roba dopodiché abbiamo lo smartphone perché lui ovviamente ha bisogno dello smartphone se vogliamo utilizzarlo per telefonare per ricevere messaggi per tutte queste cose per tutto il resto è totalmente indipendente quindi lo smartphone sarà solo una raccolta di quello che sono tutti i nostri dati della salute piuttosto che una volta che lui si connetterà però non per forza deve essere lì con noi in quel momento andrà a scaricarci i dati una volta che si collegherà mentre se vogliamo utilizzarlo per notifiche telefonare tutte queste cose dovrà sempre essere vicino a lui perché lui è collegato in modalità bluetooth allo smartphone per queste funzioni per tutto il resto quando si collegherà scaricherà i dati necessari ma lui sarà totalmente indipendente sia per il gps per la posizione per l'altimetro per la pressione dell'ambiente per il controllo della nostra salute quindi tutta l'applicazione della nostra salute qualsiasi cosa lui sarà totalmente indipendente però con lo smartphone potremmo andando a scaricare l'applicazione cospi fit disponibile sia per us che per android una volta abbinato ed associato al nostro smartwatch potremmo andare a vedere tutti i dati vedete tutto quello che comunque è la nostra attività fisica quello che è la nostra salute cioè veramente abbiamo di tutto possiamo andare a regolare anche le impostazioni che poi potremmo regolare anche dallo smartwatch quindi vedete luminosità accensione schermo in altre impostazioni potremmo andare a regolare sempre cose che possiamo regolare direttamente dal quadrante dell'orologio e poi abbiamo invece le funzioni app app cosa vuol dire queste app sono quelle che potranno comunicare col nostro orologio quindi inviare notifiche al nostro orologio quindi andandole a selezionare solo quelle selezionate potranno inviare notifiche al nostro orologio in sveglie potremmo andare a configurare modificare sveglie comunque tutte cose che poi potremmo fare direttamente dal nostro orologio in telefono potremmo andare a attivare appunto le notifiche per quanto riguarda il ricevere le chiamate e poi in sport vedete gestione del movimento potremmo andare a selezionare le attività sportive guardate quante ce ne sono io ve l'ho detto che erano tante 170 attività sportive preimpostate cioè guardate all'interno adesso abbiamo selezionato solo queste potremmo andare ad aggiungere o direttamente dall'orologio come vi ho fatto vedere prima quando eravamo all'interno del menu del nostro smartwatch o aggiungere direttamente dall'applicazione se siete più comode e guardate ragazzi quante cazzo sono cioè veramente tantissime una cosa impressionante poi sempre in dispositivo invece abbiamo aggiornamento qua potremo fare l'aggiornamento firmware se sarà disponibile adesso io l'ho già fatto quindi se faccio cerca aggiornamenti non mi trovo vedete versione nuova installata non me la trovo perché ho già fatto l'aggiornamento firmware allora questo è tutto quello che in grado di fare a livello di impostazioni adesso direi di andare a vedere cosa in grado di fare per quanto riguarda la salute un aspetto secondo me davvero molto interessante quindi mettiamo via lo smartphone che non serve più per quello che andremo a fare adesso e prendiamo lei la macchinetta che misura la pressione e misura anche il battito cardiaco così che possiamo fare un controllo e vedere quanto più o meno è preciso ripeto non è un apparecchio medico ma ci può dare delle indicazioni sicuramente molto interessanti ed utili vado a indossare l'orologio mi stavo dimenticando che di dirvi del cinturino 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 in gomma molto morbido che fa fin troppa aderenza per i miei gusti l'avrei preferito un pochino più scivoloso perché fa veramente molto grip e ogni tanto me lo sento che mi tira i peli comunque per quanto riguarda però la qualità direi che non è niente male anche perché essendo così morbido si adatta benissimo a quello che è la forma del polso qua sotto la fibbia ovviamente è in metallo abbiamo un sacco di regolazioni quindi va bene per qualsiasi tipo di polso anche se poi lui su un polso magari molto piccolo fa in pressione perché è davvero molto molto importante per quanto riguarda le dimensioni allora l'orologio l'abbiamo indossato vado ad infilarmi il bracciale per la pressione facciamo partire la macchinetta aspettiamo che faccia il suo lavoro ok 124 87 63 battiti questo è quello che ha rilevato la macchinetta adesso facciamo la stessa prova con l'orologio quindi lasciamo qua acceso il display della macchinetta entriamo nelle funzioni e andiamo a selezionare pressione arteriosa quindi andiamo a fare avvia ci mette un po e non è velocissimo nel farlo però è una funzione interessante direi che a livello indicativo potrebbe starci se i parametri saranno più o meno simili a quelli rilevati dalla macchinetta però ripeto non è veloce nel farlo e ci mette un po quindi adesso facciamo avanzare un po velocemente il tempo perfetto ha finito ha rilevato 134 di massima 75 di minima mentre nella macchinetta avevamo 124 87 quindi a livello più o meno indicativo secondo me ci sta calcolando che questo è un orologio e non è in una posizione come quella del bracciale però a livello indicativo secondo me ci può stare direi giusto per avere un'idea di come siamo messi a livello di pressione arteriosa dopodiché abbiamo anche il battito di 63 quindi bisogna entrare nelle impostazioni del battito quindi qua andiamo a selezionare frequenza cardiaca perfetto questo è il mio battito attuale per l'orologio vedete che abbiamo 68 mentre la macchinetta segnava 63 se non sbaglio quindi va beh più o meno ci siamo e una cosa interessante che se ci clicchiamo sopra all'interno di questo menu abbiamo impostazioni qua possiamo andare a attivare e disattivare determinati avvisi abbiamo l'orologio aumenta la frequenza di misurazione quando rileva che si fa attività sportiva e poi qua potremmo andare a selezionare un minimo e un massimo per quanto riguarda gli avvisi nel senso che quando supererà determinati battiti vedete che noi andremo a selezionare quindi saremo noi a decidere quanto quando supererà quella quantità massima di battiti ci avviserà e stessa cosa al contrario quando scenderemo sotto un tot numero di battiti ci avviserà dopo di che abbiamo ancora allarme frequenza cardiaca cioè abbiamo veramente un sacco di avvisi tutti riguardanti quello che è il nostro battito cardiaco c'è una funzione veramente interessante se utilizzata nel giusto modo questo ragazzi è tutto quello che è in grado di fare lui m3 ultra di cospite un orologio veramente aggressivo veramente completo con sistema gps integrato oppure molto completo con altimetro pressione dell'ambiente tutte le app di controllo della salute che abbiamo visto più quelle che magari non abbiamo visto nel dettaglio che sono sonno stress ciclo tutte queste app sempre riguardanti la salute poi le classiche funzioni che deve avere un orologio per quanto riguarda notifiche dello smartphone cioè gli sms whatsapp piuttosto che instagram può telefonare e ricevere telefonate più una struttura in metallo che lo rende veramente resistente più un vetro ad alta resistenza in gorilla più la possibilità di scendere fino a 50 metri sott'acqua cioè veramente un orologio super super aggressivo e tutto questo vi viene dato direttamente dal sito ufficiale cospite dove ci sono altri modelli questo non è l'unico modello ci sono anche rotondi ci sono con caratteristiche diverse ci sono prezzi diversi comunque lui attualmente a oggi è venduto a 123 euro andate a pagare questo orologio con queste caratteristiche un prezzo veramente veramente interessante ed è un orologio che secondo me li vale tutti per il prezzo che andate a pagare non state comprando un orologio da 1000 euro ovviamente quindi non sarà perfetto in ogni suo particolare ma sicuramente è molto perfetto per il prezzo che andate a pagare c'è un orologio davvero davvero super interessante e super resistente cioè qua parliamo di qualcosa di veramente veramente cattivo quindi ragazzi se questo mio video in cui ho portato la mia recensione riguardante lui m3 ultra di cospite vi è piaciuto l'avete trovato utile e interessante lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su instagram dove porto tante novitanti e prime spoiler dei prodotti che arriveranno qua sul canale e tantissime cose riguardanti di simulazione e di guida li trovate sul mio canale instagram sempre se vi va iscrivetevi al mio canale telegram offerte per sostenere questo canale dove posto tantissimi coupon sconto riguardante tutta la tecnologia in generale vi invito anche a seguirmi sul mio canale telegram usati poco da un nerd e mezzo dove posto tutti i prodotti che magari ho già recensito che però non tengo perché altrimenti sarebbero troppi da tenere tutti quindi li pubblico e li vendo ad un prezzo veramente veramente super scontato ma quello che dovete però fare assolutamente è iscrivervi a questo canale youtube per non perdere anche un video una recensione un test un tutorial o una novità ciao al prossimo video